ciao amici bentornati su festeconplani.com io sono il vostro mister nani nella puntata di oggi andremo a fare un escursione in fondo al mare andremo alla ricerca di una bellissima stella marina e poi mi aiuterete a realizzarne una con i palloncini siete pronti eccoci qua avete visto come realizzare la stella marina è stato proprio proprio velocissimo come manca qualcosa scusate vediamo piano piano come realizzarla prendiamo un palloncino di colore giallo lo gonfiamo bene bene e dalla parte del nodo facciamo una piccola torsione con la tecnica ad orecchio questo sarà il centro della nostra stella marina dove andremo ad attaccare tutte le punte con questo palloncino faremo tre punte una salsiccia della larghezza di una mano e successivamente tre palline con la torsione semplice e fissiamo sempre dietro la torsione ad orecchio grazie a tutti ecco fatto con un palloncino abbiamo realizzato tre punte ma essendo una stella marina a cinque punte ne mancano altre due prendiamo un altro palloncino e ripetiamo le stesse operazioni una punta con una salsiccia della larghezza di una mano e tre piccole palline con la torsione semplice per unirle basta incastrare queste due punte dietro la torsione ad orecchio la nostra stella marina è pronta non è proprio bella fateci una bella foto ecco qua voglio ricordarvi che potete trovare tutte le nostre foto anche sul nostro profilo instagram dovete cercare feste compleanni amici per oggi è tutto un saluto dal vostro mister nani e dal vostro stella marina ciao 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 ciao